Un futuro d'applausi attende la saleritana. Anche ieri la squadra Granata ha dimostrato di poter reggere il confronto con avversari di spessore. E la chiave è la mentalità che Sousa sta dando e che vuole cementare. Una mentalità vincente che il tecnico ha sottolineato essere il tratto distintivo della società Granata. Si vuole crescere e vincere, ovviamente facendo i passi giusti. La sintonia tra iervolino De Santis e Sousa si è subito rivelata forte. E dopo la bella prova di ieri della squadra all'Olimpico, ora è tempo di pensare al futuro. Da domani si comincerà a preparare la gara con l'Udinese per la quale mancheranno gli squalificati Ghiomere e Daniuk. Il futuro però è già cominciato e la proprietà vuole gettare le basi per andare avanti con Sousa e creare i presupposti per un ciclo importante. Iervolino e De Santis sono convinti che Sousa sia l'uomo giusto ed il tecnico portoghese ha manifestato la volontà di proseguire la sua esperienza in Granata. Il giorno di riposo potrebbe portare novità. Noi per cimentare, per consolidare mentalità, io non posso pensare a andare a qualsiasi partita e pensare a abbassare i livelli di attenzione, di concentrazione, di gioco. Perché io voglio creare una cultura, una cultura vincente. Niente meglio che competere contro le più grosse squadre come questa della Roma, in un stadio pieno che ti spinge, ti fa di tutto per metterti in difficoltà. Niente meglio di poter crescere la nostra mentalità vincente in un contesto come quello che è stato oggi. Per potenziare qualsiasi progetto la importanza di una città in una tifoseria. Ancora oggi l'abbiamo visto. Questo è veramente un vincolo importante. E su quel circolo che hai visto dopo la partita, la cosa che ho chiesto ai ragazzi è che era il momento di noi non aspettare della nostra tifoseria, ma di noi conquistarle per poter avvicinarle e poter creare una chimica. Perché le partite che ho visto della Sardinitana, prima di essere allenatore, di diventare allenatore, ha marcato sempre presenza la tifoseria, cioè la nostra città. E questo è un valore aggiunto a qualsiasi squadra. Abbiamo bisogno di avere sempre molto controllo emozionale. Da lì anche la nostra comunicazione è una comunicazione stabile. Cioè non andare a 8 e 80. Dobbiamo anche educarci ed educare. Per poter potenziare quello che credo io sia un futuro di successo in questa società.